Mirko, si riparte dall'ottimo secondo tempo di Carpi contro il Verona per chiudere la pratica play-off e per regalare una soddisfazione agli oltre 10.000 che saranno presenti sugli spalti? Sì, cercheremo sicuramente di portare a casa i tre punti. A Carpi abbiamo fatto una buona prestazione, ci è mancato soltanto il gol. Ci proveremo per tutti i tifosi che comunque verranno allo stadio domani e ci stanno sostenendo dall'inizio di campionato. Il mister ti ha dato una grande chance, hai fatto una buona partita. Da qui alla fine vedremo un nuovo Antonucci? No, io sto aspettando quando il mister mi dà l'opportunità come è successo con il Carpi. Spero di farmi trovare sempre pronto e comunque mi sto allenando bene. Sto pensando alla squadra prima che al singolo e spero che la squadra faccia meglio possibile fino a fine campionato. Cosa significa domani finalmente, io direi, il pubblico delle grandi occasioni? Significa che comunque abbiamo gente dietro che ci sta supportando, che da inizio del campionato viene in trasferta con noi e ci viene comunque a tifare tutto. Quindi noi siamo contenti e speriamo di regalargli una grande gioia domani. Volete provare anche a ciuffare il quarto posto o a questo punto il preliminare play-off è d'obbligo? No, ora fino a fine campionato si spera di fare più punti possibile e poi a fine campionato diremo le somme e dove saremo vedremo. Chiudo con una battuta simpatica, Pillon a Carpi dopo la partita ha detto che mi ha sorpreso molto Antonucci nella scena. Che hai combinato? No, non ho combinato niente, più che fuori speriamo di sorprendere un campo quando gioco.